Ciao fragoline, nuovo video, altro shopping, però questa volta ho fatto acquisti su acqua e sapone e una cosa di Shane perché in poche parole mia mamma ha comprato su Shane non gli andava diciamo questa cosa che adesso vi mostrerò per prima e alla fine dato che va a me l'ho presa io per cui ve la faccio vedere, vi faccio vedere tutto perché sono tante cose che ho comprato e prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un video quando praticamente escono, seguirmi su Instagram che vedete tutto quello che faccio e tutto quello che pubblico che qua la maggior parte non pubblico e non vi faccio vedere ma vi faccio vedere più su Instagram che su Youtube lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video e se volete vederne altri di acquisti di quello che compro un commentino qua sotto se anche voi avete preso queste cose che adesso vi farò vedere e detto questo iniziamo perché sono tantissime cose allora prima di tutto volevo farvi vedere la cosa di Shane che praticamente ha preso mia mamma allora questa l'ho pagata, l'ha pagata 40 euro, 4 euro è una gonna in poche parole, ho i cappelli tutti in aria sparati è una gonna che però si mette diciamo con questi lacci lunghissimi all'inizio sembrava un vestito poi quando l'ha provato diciamo che non gli piaceva non gli andava bene sul suo corpo e alla fine l'ho provato io e abbiamo scoperto che alla fine era una gonna che praticamente tiene con le spalline praticamente le spalline le metti così la gonna normale è carina, a me mi sta bene massimo vi lascio una foto della modella oppure nel prossimo vlog vi farò vedere com'è indossata comunque è fatta così nera e bianca credo questo dettaglio tipo stelline ma neanche stelline e queste bretelle chiamiamole così lunghe che tengono diciamo la gonna e questo è l'acquisto che volevo farvi vedere in poche parole questo l'ha preso a 4 euro perché era scontato e dato che se no passa il tempo e poi non ve le faccio vedere non si sa mai poi iniziamo da questo sacchettino enorme sono andata in due giorni diversi e dato che avevo il 20% di sconto alla fine ho diciamo acquistato un bel po' se sentite rumore, pioggia, grandine e tutte le altre cose è perché il tempo è brutto e sto usando anche la luce per cui scusate ma allora questo scontrino ho speso 40 euro e 63 praticamente adesso vi dico anzi facciamo così prima di perché i prezzi non me li ricordo tutti prima di sbagliare i prezzi e dato che ci metto tanto per cercare quanto costavano ve li metto di fianco qui o qui così a meno quando vi faccio vedere il prodotto vi metto di fianco i prezzi secondo me facciamo prima perché sennò ci mettiamo l'anno prossimo ora che li cerco tutti allora poi vabbè vanno dato anche i due biglietti dell'acqua world che ne voleva darmi ne altre due però io non è che vado cioè sono andata una volta l'ho presi ma gliele do diciamo ai miei fratelli comunque questi sono i biglietti gratis dell'acqua world spendevi un tot e ti regalavano i biglietti l'acqua world allora iniziamo ho preso questo praticamente è lo spray automatico che tu lo ricarichi questo però ha il sensore di movimento intelligente e ha una fraganza solo quando serve ed è la Glade io mi sto trovando bene su questa marca qua adesso non so se si spara flash ok è così l'ho preso a Oceano Avventure l'odore è credo buono perché ovviamente non potevo aprire la confezione comunque appunto non riesco ad aprirla perché adesso vabbè senti la spacco perché tanto alla fine si volevo farvi vedere il coso però vabbè c'è dentro la ricarica questo automatico è piccolissimo allora dovrebbe esserci la ricarica vediamo e anche le pile dentro infatti c'è la ricarica e le pile l'odore ovviamente non si sente perché dovrei attivarlo questo non ha il timer mi sembra no non c'è il timer però va col sensore di movimento ed è fatto così bianco fatto così questo l'ho preso perché così lo metto nella nella mia cameretta e questo è il primo adesso non so dove mettere le cose spero che non mi cade niente poi ho preso questo qui che lo volevo provare è praticamente l'acigiene facile questo non lascia loni e non macchia è uno spray a secco igienizzante è nuovo e lo provo e vi farò sapere questo qui è di 30 si di 30 300 ml ce la posso fare eh boh vediamo lo provo perché io di solito lo uso sul letto lo uso anche eh sui cuscini oppure sulle coperte e dato che ne ho presi due in poche parole ho preso anche questo della citrosil spray disinfettante questo elimina fino al 99% dei batteri non macchia sui tessuti questo qua è la lavanda questo l'ho preso alla lavanda sui 3 euro e poi 3 euro e 40 invece questo qui profuma gli ambienti sui tessuti eccetera per cui sono diversi il prezzo più o meno è uguale uno lo lascio in macchina così lo spruzzo per igienizzare i sedili della macchina quando mi arrivano ad esempio le colleghe oppure gli amici preferisco diciamo spruzzarci questo e poi uno lo lascio a casa perché con l'altro mi trovo bene perché ha un buon profumo e l'ho già usato l'altro ovviamente vi farò sapere queste invece sono le ricariche di quello che vi ho fatto vedere quello piccolino questo qua 5 euro due ricariche questo però l'ho preso romantic alla vaniglia vi farò sapere tutti e due gli odori se sono buoni poi ho preso una spugna questa qua rosa fatta così poi ho preso questo che è il mocio quello che puoi lavare in lavatrice io mi sto trovando bene questi costano sui 3 euro costano un po' tantino però ne vale la pena perché io ne ho almeno 5 paia assorbe tanto e sinceramente è fantastico ci sono tanti colori io l'ho preso blu e rosa per la casa così almeno quando si sporcano o quando voi lo usate li mettete nella lavatrice sono fantastici perché non si rovinano e non devi stare lì tutte le volte a sprecare 2 euro per cambiare il mocio perché con questi sono fantastici per cui io ne ho presi due anzi ne volevo prendere altri ma alla fine costano un pochettino e ho preso quelli poi non so se vi interessa ma io prendo queste qui della linea seta sottile con ali io la marca uso solo questa io negli altri video non vi ho fatto vedere gli assorbenti che uso anche perché non so se le ragazze sono interessate o voi siete interessate per cui alla fine io ve lo faccio vedere poi bu questa era in promozione l'ho pagato 2 euro ce ne sono dentro 20 l'unica marca che uso è o la lines seta o la lines e basta solo quelle uso di marche non altre poi andiamo avanti ho preso queste spugne microfibra queste ce ne sono dentro 8 lo pagate se non sbaglio 3 euro però vi metto lo stesso il prezzo di fianco tutte colorate ovviamente li uso sia per il bagno sia per la cucina e sia e per altre cose no di più per il bagno e la cucina però ovviamente se io li diviso ad esempio per il bagno uso questi blu per la cucina uso queste rosa così almeno so che sono quelle poi sono lavabili e mi sto trovando bene e ne ho comprati altri perché gli altri ce li ho li sto usando ma quelle sono fantastici e mi sto trovando bene poi ripeto se li metti nella lavatrice nella lavatrice e li lavi sono fantastici perché almeno li puoi lavare non sono usegetta poi ho preso questi correttori che ormai questo correttore è la mia vita prendo solo questo costa 10 euro no costa 11 euro e qualcosa 11 euro 90 era in promozione l'ho pagato 9 euro e non so i 90 non mi ricordo ne ho presi due perché voglio farla scorta il mio colore è 03 questo qui è della Maybelline cancella età correttore molti uso anti e age praticamente è fantastico mi copre le occhiaie poi è fantastico anche il colore perché è uguale alla mia pelle e sinceramente uso solo questi per cui sono fantastici poi la novità che è uscita non so se lo sapete il primo sacchetto è andato dato che sono una che prova tutto ma proprio tutto dei prodotti ho preso questi che sono di Pantene di Chiara Ferragni questo è uno shampoo che protegge protezione e protegge praticamente questo che è di 250 ml 4 euro mi sembra uno dovrebbe essere non mi ricordo però vabbè i prezzi ve li lascio di fianco e invece questo la maschera protezione 300 ml allora li volevo provare adesso vediamo se l'odore è buono è fatto così l'odore è buono non è male li proverò vi faccio sapere ovviamente dato che a me mi piace il pack che è bellissimo quando li finisco li tengo per bellezza per perché secondo me il pack è troppo bello 4 euro questo e 4 euro questo 4,50 non mi ricordo ma ormai ho talmente tanti prodotti per i capelli che secondo me più di un anno ho voglia di usare tutti sti prodotti comunque non potevo lasciarlo giù era in promozione erano tutti e due in promozione e li voglio provare vi farò sapere comunque mi sono innamorata di questo pack che quando li finisco li metterò per bellezza sul mobile o da qualche parte io sono fatta così non lo so iniziamo con l'altro sacchetto che è questo perché è già tanto ma questi sono pochi prodotti questo qui ho speso 22,47 in poche parole mamma che casino non so neanche dove appoggiare i prodotti allora ho preso mi sono anche conciata allora nell'altro sacchetto veloce vi faccio vedere ho preso le salviettine perché le ho praticamente quasi finite del L'Oreal questi qui fiori rari con pelle secche e sensibile li volevo provare e alla fine ho preso questo ho detto proviamoli perché le ho viste ho detto boh forse sono ottimi vi farò sapere anche su questi qua poi ho preso altre salviettine però questa qui della fria che volevo provarla in più ti regalavo in omaggio questa maschera che è attaccata questa qui non so se si vede maschera in tessuto fria myself con cacao e ginseng boh io provo a vedere com'è dato che è gratis e queste qui sono le salviettine praticamente acqua di rose con estratto di camomilla ce ne sono dentro 20 pezzi ho preso sia questo che quelli rosa perché le volevo provare infatti ah no le maschere sono diverse perché si presenta così la maschera questa è con joy e melograno questa è l'altra maschera non so se si vede invece questa estratto di melissa e magnolia si con tessuto 20 pezzi questa qua rosa ho preso tutte e due sia blu che rosa e ho detto boh li proviamo almeno ho fatto la scorta per un po' ce li ho poi ho preso la mia mitica vet crema depilatoria che non deve mancare ormai l'ho anche finita ho preso sia questa qui col corpo gambe pelli sensibili quella blu e sia quella praticamente rosa che pelli normali ho preso questi due della vet erano in promozione a 4 euro l'uno ovviamente se prendevi due prodotti della vet ti regalavano le carte della vet queste qua da gioco carte da gioco comunque in omaggio ti davano questi qua in poche parole io ho preso sia questi due poi dato che avevo il 20% di sconto ho usato il 20% di sconto su questo che costava 3 euro e qualcosa l'isterine questo qua c'è dentro anche quello piccolo spero che va bene che è buono che non è forte l'ho preso sia questo qua per diciamo le gengive non mi veniva il nome comunque ho preso questo che non era in promozione ma dato che non potevo prendere le cose in promozione per usare il buono ho preso questo e poi ho preso sempre in promozione questo qua del prep per irritazione però ho visto che è di con aloe vera per cui dovrebbe essere ancora più buono e dato che io ho problema col caldo eccetera sto usando tantissimo il prep e ne ho comprato un altro ma questo è dell'aloe vera costava 3 euro e 50 qualcosa però con lo sconto del 20% l'ho pagato di meno che poi alla fine sarà stato un euro in meno però vabbè dettagli e per finire questo che ha preso il mio ragazzo che non ho capito che cosa si è rotto dato che ho il cosa tutto non so si è aperto qualcosa questo qua è chiuso boh questo qua del dovegofresh 24 ore che è un deodorante sì solo che ha spray che buono ha un buon odore ha un buon odore al cetriolo praticamente cetriolo e tè verde è un deodorante praticamente ed è buono come odore infatti appena lo aprite però mi sono conciata questo qui è quello che ha preso il mio ragazzo l'ho pagato 2 euro in promozione e poi vi faccio vedere velocemente che se voi acquistate diciamo un oggetto che ha la promozione vi regalano anche io ho preso gli occhiali mi hanno regalato sia gli occhiali che sono questi qua gli occhiali pighi e poi mi hanno regalato questo struccante della rim london questo qua solo che questi qua non è che c'è boh un altro struccante guanto struccante microfibra della Role Roleal il nome proprio e un altro di Max Factor Eats questo qua sempre un guanto struccante solo che sinceramente non è che mi trovo bene con questi guanti perché mi irrita cioè io ho la pelle un po' sensibile per cui boh e per finire ci sono le due custodie per il telefono quando vai sott'acqua sia nel mare che in piscina questi due mi hanno regalato e poi questi due ventilatori in poche parole adesso ok uno rosa e uno azzurro che rinfresca uno fatto così con lo spruzzatore in poche parole sono due e questi qua me li hanno regalati perché tu acquistavi diciamo qualche prodotti e cioè poi spruzzi metti l'acqua e qua adesso non va perché non so perché si sono scaricati di nuovo e fatto così e ho sia il blu che quello rosa questo per l'estate questi erano praticamente i regali in omaggio che ti davano infatti se tu vai acqua sapone la maggior parte ti regalano sempre qualcosa o i prodotti che prendi allora il video è durato troppo perché erano troppi prodotti e scusate ma più veloce di così non potevo andare per cui fatemi sapere se avete provato questi prodotti fatemi sapere come vi trovate e se ancora non avete diciamo provato questi prodotti se siete curiosi di sapere quale prodotto è meglio oppure vi piace comprarlo fatemelo sapere sotto nei commenti così almeno io ve lo testo lo provo o anche in un video a parte lo proviamo insieme e vediamo se è buono o no fatemelo lo stesso sapere sotto nei commenti adesso è uscito un sole non si vede più niente detto questo il video finisce qua io vi saluto ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale vi aspetto e poi un bel like e vi aspetto anche su Instagram noi ci vediamo al prossimo video ciao